Concentrare i servizi pubblici. L'input che arriva dalla CIS di Macerata in tema di gestione di gas rifiuti, ma soprattutto acqua, è ormai chiaro. No ad una frammentazione che ha comportato conseguenze pesanti da sostenere per il territorio. Non si tratta, spiega la CIS, di una questione di puro principio, visto che gli effetti di tale parcializzazione ricadono inevitabilmente su qualità dei servizi e costi per le famiglie. Se pensiamo all'acqua, abbiamo nella provincia macerata otto società che gestiscono l'erogazione dell'acqua. Un'assurdità, un'enormità. Noi siamo all'ascissione dell'atomo, una situazione pericolosa che poi ha portato a una poca qualità dei servizi e tariffe più alte rispetto ad altri. L'occasione per la ristrutturazione dell'intero sistema nel territorio maceratese è ora offerta dalla prossima scadenza, prevista per il 31 dicembre, del termine per la cessazione degli affidamenti diretti dei servizi dai comuni alle municipalizzate. Abbiamo di fronte a noi una scelta. L'articolo 23 bis, la legge 183 del 2008, impone delle scelte. O le società che gestiscono i servizi alienano il 40% o mettono a bando la gestione dell'intero servizio. Dobbiamo scegliere, dobbiamo essere attenti, quindi dobbiamo farlo seriamente.